11 giorni di agonia e poi la morte non ce l'ha fatta Dario Cognate il 26enne di vittoria rimasto coinvolto lunedì 7 settembre nel gravissimo incidente stradale sulla vittoria scoglitti denunciate dai carabinieri ragusa due persone per lavori abusivi in zona sottoposta a vincolo archeologico i due soggetti stavano effettuando dei lavori di sbancamento non autorizzati nell'aria fratelli d'italia di vittoria presentano un'interrogazione in consiglio per chiedere chiarimenti sulle condizioni del litorale di scoglitti dopo lo sversamento in estate del liquame la riviera lanterna il caso degli assistenti sociali scolastici a vittoria rischia di diventare una querella infinita e oggi è il consigliere daniele barrano a contro replicare all'assessore alla pubblica istruzione gaetano bonetta l'onorevole nino minardo presenta una proposta di legge sull'alternanza scuola lavoro per iniziare l'apprendistato dai 14 anni obiettivo combattere la dispersione scolastica e cercare di rilanciare l'occupazione benvenuto a un appuntamento con l'informazione su eventi sicilia allora lo avete sentito dai titoli la tragica notizia non ce l'ha fatta dario cognata il giovane centauro 26enne che lo scorso 7 settembre era rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale che si era registrato sulla vittoria scoglitti giovane che è morto intorno a mezzanotte all'ospedale garibaldi di catania 11 giorni dopo il terribile incidente stradale che lo aveva visto coinvolto mentre era in sella alla sua moto sulla vittoria scoglitti è morto dario cognata il ragazzo di 26 anni rimasto gravemente ferito nel tardo pomeriggio del 7 settembre scorso il giovane si trovava ricoverato all'ospedale garibaldi di catania sarebbe deceduto dopo il terzo intervento subito nel tentativo disperato di strapparlo alla morte purtroppo le sue condizioni si sono aggravate ed il decesso è avvenuto intorno alla mezzanotte oltre alla gamba la vittima dell'incidente aveva riportato gravi fratture alla colonna vertebrale dario cognata in sella alla sua kawasaki si era scontrato con una volkswagen passat con a bordo due tunisini mentre stava andando verso vittoria la passat viaggiava invece in senso contrario diretta a scoglitti e stava facendo la svolta a sinistra per entrare nel piazzale della fontana primo maggio sottoposta ad un primo intervento chirurgico nel reparto di ortopedia del guzzardi era stato trasportato al garibaldi in elisoccorso la notte stessa dell'incidente purtroppo però il giovane non ce l'ha fatta lascia i genitori il fratello e la sorella è un incidente stradale si è verificato questa sera sulla ieri sera sulla vittoria gel intorno alle 20 ha scontrato su una renault megane una motonda ad avere la peggio il centauro vittoriese di 28 anni che viaggiava in direzione vittoria illeso invece il conducente dell'auto che percorreva il senso di marcia opposto al giovane ricoverato all'ospedale di vittoria è stata riscontrata una prognose di circa 40 giorni un ragusano e un comisano denunciati dai carabinieri della compagnia di ragusa per danneggiamento al patrimonio archeologico ed esecuzione di opere in assenza di autorizzazioni si tratta del proprietario del terreno rigadente nell'area protetta e dell'uomo che conduceva un escavatore i carabinieri della compagnia di ragusa hanno denunciato due persone un ragusano e un comisano che stavano compiendo dei lavori di sbancamento non autorizzati in un'area sottoposta a vincolo archeologico e paesaggistico ad avvisare i militari un cittadino che passando nella zona di contrada passo marinaro aveva notato un escavatore intento ad effettuare dei lavori di sbancamento in un terreno i militari hanno quindi identificato sia il conducente dell'escavatore che il proprietario del terreno di proprietà privata ma inserito in una zona nota per essere sottoposta a vincolo archeologico e paesaggistico nell'area infatti vi è la presenza della necropoli classica di Camarina meglio nota come necropoli di passo marinaro che tuttora conserva resti monumentali con diverse tipologie di tombe alcuni resti di tombe tra l'altro erano stati già danneggiati dai lavori di sbancamento per questo motivo è stato richiesto anche l'ausilio del nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale i lavori sono stati immediatamente interrotti e mediante la sovrintendenza ai beni archeologici di Ragusa al proprietario è stato notificato un provvedimento di fermo dei lavori sia l'uomo che il conducente dell'escavatore poi sono stati denunciati in stato di libertà per danneggiamento al patrimonio archeologico storico e artistico nazionale ed esecuzione di opera in assenza di autorizzazioni Viola la libertà vigilata e ruba un'auto a finire in manette un giovane modicano di 28 anni sorpreso dai carabinieri alla guida dell'auto che aveva rubato poche ore prima Nel corso della nottata i carabinieri della compagnia di Modica hanno arrestato un giovane che aveva rubato un'autovettura e guidava indisturbato per le vie del centro oltretutto senza essere in possesso della patente di guida Si tratta di Fausto Di Guardo, 28 anni nulla facente già noto alle forze di polizia L'intervento è iniziato quando intorno alle ore 23 un cittadino ha chiamato la centrale operativa dei carabinieri di Modica segnalando di aver appena subito il furto dell'auto Verso la mezzanotte, quattro carabinieri liberi dal servizio e che poco prima erano venuti a conoscenza del furto e dei dati dell'autovettura nel percorrere una delle vie di Modica bassa hanno notato il veicolo segnalato Immediatamente i militari hanno invertito la marcia nel tentativo di bloccare il mezzo rubato che nel frattempo stava proseguendo la sua corsa Dopo un breve inseguimento i carabinieri hanno raggiunto l'auto bloccandone la marcia e sorprendendo alla guida di guardo Dagli accertamenti è emerso che il giovane non aveva nemmeno la patente di guida Il ragazzo è stato quindi arrestato e dovrà rispondere di furto guida senza patente e violazione della libertà vigilata a cui era sottoposto Al termine delle formalità di rito su disposizione del sostituto procuratore di turno Alessia Laplaca il ragazzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari L'auto è stata già restituita al legittimo proprietario Gli avvitori continuano i disagi per i residenti di Via Verga nel popoloso quartiere Forcone Da giorni i rubinetti dell'abitazione sono a secca Le ripetute richieste di assistenza agli uffici non hanno avuto risposta concreta Alla fine qualcuno ha deciso stamani di contattare la nostra redazione Noi ovviamente non possiamo fare altro che girare questa richiesta di emergenza a chi di competenza nella speranza che la situazione possa risolversi Fratelli d'Italia di Vittoria ha presentato un'interrogazione sulle condizioni dell'impianto di pretrattamento delle acque reflu e sulle condizioni delle spiagge dopo lo sversamento in estate dei liquami sulla lanterna Le Moscato e Nicosia in particolare chiedono chiarimenti all'amministrazione comunale I consiglieri di Fratelli d'Italia Giovanni Moscato e Andrea Nicosia annunciano di avere depositato un'interrogazione consigliare per chiedere immediati chiarimenti in merito all'impianto di pretrattamento delle acque reflu e di scoglitti Nella frazione affermano i liquami si sono riversati sia in mare sia sulla spiaggia della Lanterna causando un incalcolabile danno sanitario ed immagine Con la nostra interrogazione spiegano intendiamo chiedere all'amministrazione chiarezza che non c'è mai stata sinora ed evidenziare le responsabilità di un disastro che ha messo alla berlina a scoglitti mettendo a rischio la salubrità del nostro mare e delle nostre spiagge A nostro parere, dichiarano ancora lo sversamento dei liquami è dovuto ad una mancanza di manutenzione ordinaria dell'impianto Sarebbe bastato, sottolineano Moscato e Nicosia prevedere, come fatto almeno sino al 2010 una costante pulizia delle vasche presenti all'interno dell'impianto per evitare l'accumulo di fanghi e detriti sul fondo che ha, di fatto, limitato la loro capienza sia per le piogge sia per il maggiore afflusso di villeggianti La pioggia e l'aumento dei residenti a scoglitti non sono due eventi imprevedibili, aggiungono i consiglieri e l'amministrazione avrebbe dovuto agire in maniera avveduta portando l'impianto nelle condizioni migliori Sulle condizioni della spiaggia poi dichiarano non abbiamo visto nessun processo di sanificazione della sabbia e nella nostra interrogazione chiediamo lumi non basta impastare un po' di sabbia con la ruspa E' sempre colpa degli altri, concludono i consiglieri dell'ARPA che ha sequestrato l'impianto all'Enel che avrebbe causato il suo malfunzionamento o dei Moscato e Nicosia che si permettono di pretendere chiarezza Vogliamo risposte immediate e chiediamo sin da ora interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutte le pompe di rilancio e le caditoie cittadine anche di Vittoria prima del verificarsi di futuri allagamenti Intanto l'esperto della frazione Marco Dezio rende noto che a Scoglitti l'estate continua e i servizi sono ancora presenti per quanto possibile ha dichiarato Dezio continuiamo a garantire servizi tipicamente estivi alla cittadinanza ma anche ai turisti che sono rimasti e ai villeggianti che si attardono fino ad ottobre per questo motivo, dice Dezio, disposto che vengono pulite le spiagge più vicine al centro abitato per assicurare la fruizione a quanti non vogliono rinunciare al mare al tuo servizio tutt'ora attivo e anche lo sportello del cittadino, conclude Dezio che è stato trasferito al primo piano della delegazione municipale a breve verranno potenziati alcuni servizi che saranno presentati nei prossimi giorni torniamo al caso degli assistenti sociali a Vittoria caso che rischia di diventare una telenovela oggi infatti il consigliere comunale Daniele Barrana controreplicare all'assessore Bonetta chiedendo un incontro fra tutte le parti in causa sulla questione a Vittoria dell'equipe scolastica socio-psicopedagogica oltre ad essermi documentato ho ricevuto anche il conforto sia dell'ordine professionale degli assistenti sociali che del sindacato unitario Sunas così il consigliere comunale Daniele Barrano che controreplica alle affermazioni dell'assessore Gaetano Bonetta il quale sulla vicenda l'aveva duramente ripreso mi ero premurata, aggiunge Barrano di verificare l'opportunità di predisporre un presidio assistenziale insieme alla biblioteca comunale visto che l'assessore Bonetta stava sul punto, parole sue di essere corto da ischemia culturale ma al di là di questo spero che lo stesso esponente di Giunta dall'alto della sua levatura accademica si sia reso conto che il confronto è la soluzione migliore per cercare di risolvere i problemi e che su questa vicenda c'è anche chi ne sa più di lui e questo a meno di non voler sconfessare i vertici dell'ordine dei stenti sociali e del sindacato speriamo a questo punto sottolinea Barrano che l'amministrazione comunale colta da un barlume di irragionevolezza convoca un incontro con tutti i soggetti interessati trovando gli spunti per gestire al meglio questa materia che è molto delicata e questo perché conclude il consigliere vittoriese interessa da vicino gli studenti con qualche difficoltà della nostra città e che hanno bisogno di un evidente sostegno e sull'argomento intervengono anche gli esponenti di Fratelli d'Italia Giovanni Moscata, Andrea Nicosia, Salvatore e Salemi che definiscono incredibile come l'amministrazione comunale stia agendo nell'assoluto silenzio e senza alcuna concertazione con i dirigenti scolastici e gli operatori della scuola noi abbiamo una proposta alternativa affermano i tre che rispetti i criteri di efficienza e territorialità Proposta di legge dell'onorevole Nino Minardi in materia di alternanza scuola-lavoro per iniziare l'apprendistato dei 14 anni Obiettivo, dice Minardo combattere la dispersione scolastica e rilanciare l'occupazione Una proposta di legge che intende prevedere l'apprendistato per lo studente fin dal compimento dei 14 anni al fine di combattere la dispersione scolastica formare lo studente e rilanciare l'occupazione A presentarla l'onorevole Nino Minardo grazie ad una legge che prevede la possibilità per gli istituti tecnici e professionali per i licei di attivare l'alternanza scuola-lavoro a partire dalle terze classi L'apprendistato ha dichiarato il parlamentare di Forza Italia e utile per offrire allo studente un'alternativa di formazione con esperienze in ambiti lavorativi Tra l'altro i dati sulla dispersione scolastica sono chiari e l'Italia risulta una delle nazioni europee col maggior numero di giovani che abbandonano anticipatamente gli studi con fughe dai banchi da record anche in Sicilia e di conseguenza anche in provincia di Ragusa Tra l'altro diverse scuole lo scorso anno scolastico hanno anche avviato un percorso didattico che alterna ore di lezione in classe a stagi in aziende e con numeri importanti relativa al coinvolgimento degli stessi studenti Per Minardo quindi qualcosa nel mondo dell'istituzione sta cambiando perché il tema dell'alternanza è prima di tutto di origine culturale si è sempre pensato infatti che prima si studia e poi si cerca lavoro Pertanto per l'esponente di Forza Italia occorre fin da subito attivare con maggiore intensità il progetto di alternanza scuola-lavoro e come indica questa proposta di legge anticiparla al compimento del 14esimo anno di età dello studente in modo da assicurargli per il futuro un'occupazione stabile Nuove ridefinizioni della legge degli appalti e c'è una nota che riguarda la CNA Costruzione della Provincia per la Confederazione infatti l'occasione per cercare di eliminare i dubbi di costituzionalità ed una serie di anomalie Anche la CNA Costruzioni della Provincia di Ragusa fornisce il proprio contributo alla ridefinizione del testo riguardante la legge sugli appalti in Sicilia dopo che la stessa è stata impugnata dal Consiglio dei Ministri e l'occasione scrive in una nota diffusa in queste ultime ore per cercare di eliminare oltre ai dubbi di costituzionalità una serie di anomalie che avrebbero rischiato di penalizzare ulteriormente le piccole e medie imprese a vantaggio della grande impresa rischiando di creare ulteriori occasioni di chiusura e di sottosviluppo in un settore già messo a dura prova dalla crisi Per la CNA Costruzioni e le nuove disposizioni comunitarie possono rappresentare un'opportunità per dare un assetto organico snello e innovativo al sistema sugli appalti per creare migliori condizioni di mercato per tutte le imprese e per qualificare la spesa pubblica Occorre scrivono ad operarsi sulla questione dei massimi ribassi che producono numerose incompiute e generano varianti su varianti che danno vita solo a caos e incertezza e che fanno lievitare i costi dell'opera Tra l'altro sono aspetti ribaditi più volte da Raffaele Cantone vertice dell'autorità nazionale anticorruzione Per noi è quindi necessario predisporre finalmente uno strumento chiaro e accessibile che tuteli la concorrenza e favorisca una maggior apertura del mercato Poche e semplici regole che possano tradursi in un più facile approccio alle procedure e di conseguenza i minori oneri amministrativi per le imprese devastate scrivono dagli effetti di un mercato inquinato dalla concorrenza sleale di piccole e medie imprese opache che risparmiano su tutto grazie alla mancanza di trasparenza e di controlli alla corruzione alla pressione della criminalità organizzata sulle procedure di affidamento dei lavori Il comune di Ragusa ha finalmente installato le pensiline degli autobus in via Brin Peccato che le abbia fatto sul versante opposto alla fermata lo afferma polemicamente il PD della frazione che chiede di modificarne la locazione Dopo anni di richieste a Marina di Ragusa condite anche da raccolta di firme finalmente il comune decide di installare due pensiline alla fermata degli autobus in via Brin Tutto perfetto affermano dal circolo pippo-tumino del PD tranne il fatto che le pensiline in questione sono state collocate sul versante opposto alla fermata lungo l'altro senso di marcia Non sarebbe stato più opportuno si chiedono dal PD della frazione effettuare dei lavori di manutenzione lungo il marciapiedi che costeggia la fermata per installarle in quel posto Bisognava certo togliere le radici che sollevano visibilmente il suolo e probabilmente sarebbe stato troppo oneroso per le casse comunali ma in questo modo a cosa servono oggi le due pensiline sul versante opposto Dal PD chiedono pertanto all'amministrazione comunale e in particolare all'assessore competente di provvedere a cambiare al più presto l'allocazione delle pensiline installandole invece lungo l'alto senso di marcia e quindi dove si trova effettivamente la fermata degli autobus E' chiaro che in questa maniera la struttura ha un'alta valenza così come è chiaro rimarcano dal PD che assieme ai cittadini della frazione continueremo a chiedere fino allo stremo delle forze l'installazione dove c'è la fermata dell'autobus Il via le istanze a comiso per il bonus bebè l'assessore alle politiche sociali della famiglia Vittorio Ragusa comunica infatti che è possibile presentare l'istanza per usufruire del bonus per la nascita di un figlio per l'anno 2015 l'assessorato regionale della famiglia ha disposto infatti per l'anno corrente e nei limiti del disponibile l'assegnazione di un bonus di 1000 euro per la nascita o l'adozione di un figlio e al fine di ottimizzare i criteri di assegnazione del bonus sempre la regione ha disposto che procederà all'erogazione dello stesso con due piane di riporto semestrali per quanto riguarda i requisiti in richiesti occorre la residenza nel territorio siciliano al momento del parto o dell'adozione la nascita del bambino nel territorio siciliano e l'indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore a 3000 euro è guerra aperta in materia di apertura domenicale dei negozi tra la confa e il terziario e la grande distribuzione e adesso se verrà approvato un disegno di legge sugli orari dei negozi si saranno multe salate per chi non rispetterà i giorni di chiusura La nuova legge ormai in fase di approvazione al Senato sulla chiusura obbligatoria dei negozi e dell'attività commerciale nei giorni festivi sta creando non poche polemiche tra la grande distribuzione che vorrebbe continuare a tenere aperto tutti i giorni dell'anno e gli esercizi cosiddetti di vicinato i quali in sintonia con la stragrande maggioranza dei lavoratori vorrebbe la chiusura per almeno tutti i 12 festivi dell'anno e ad attaccare la grande distribuzione all'associazione dei consumatori ci pensa in quest'ora la federazione commercio della confa il terziario che parla di un paese l'Italia rimasto l'unico in Europa dove esiste una totale anarchia in tema di giornate e orari di apertura degli esercizi commerciali chiudere i negozi nelle giornate festive rimarcano dalla confa al terziario il segno di civiltà mentre l'apertura dei negozi 365 giorni l'anno ha causato la chiusura di molti piccoli negozi oltre alla perdita di migliaia di posti di lavoro e i dati parlano chiaro per ogni posto di lavoro guadagnato negli ultimi tre anni hanno infatti chiuso tre negozi e con molti di questi ex esercenti costretti ad andare a lavorare alle dipendenze delle grandi catene e con la nuova legge in vigore si parla già di sanzioni pesanti per chi non rispetterà le regole multa infatti fino a 12.000 euro per con il rispetto ai giorni imposti di chiusura e da 1 a 10 giorni di stop per chi invece commette due infrazioni nello stesso anno 6 moto d'acqua da soccorso pagate dalla regione di cui si sono perse le tracce allora il Movimento 5 Stelle vuole vederci chiaro si parla di spese di più di 80.000 euro solo per l'acquisto ed è la deputata 5 Stelle Angela Foti che ha presentato in merito un'interrogazione a Lars e una nota all'assessorata alla salute oltre al costo dei bolidi del mare dice la Foti altri fondi pubblici sono stati spesi per la formazione di 25 operatori soccorritori con patente nautica brevetto di bagnino e abilitati a guidare idromoto da 1.500 cavalli al costo di 400 euro per ogni corsista ma di tutto questo dice la grillina non si sa nulla 30 anni di gemellaggio tra Chiara Montegulf e Clermont de Loise in real comune del centro Petemontana apposta la firma sul rinnovato patto tra i due centri con una cerimonia molto sobria in occasione dell'importante anniversario Nell'aula consigliare del comune di Chiara Montegulf è stata apposta ieri la firma sul nuovo patto di gemellaggio tra il centro montane e la cittadina francese di Clermont de Loise durante la cerimonia il ricordo è andato al 1985 quando l'allora sindaco Cirino Paradiso e il collega francese André Van Tom firmarono il patto di gemellaggio oltre alle tante iniziative che in tutti questi anni sono susseguite come la reciprocità ad ospitare alcune famiglie rendendo questo patto di amicizia solido e condiviso dalle due comunità durante la cerimonia molto semplice è stato quindi sottoscritto questo rinnovato patto di amicizia nella certezza si legge testualmente nella pergamena che i sentimenti che si sono radicati in un costante rapporto fra le popolazioni dei nostri comuni continueranno a svilupparsi nel tempo contribuendo all'affermazione di quei principi di solidarietà e fratellanza nei quali costantemente abbiamo creduto e crediamo messa poi da parte l'ufficialità la delegazione francese e le famiglie ospitanti hanno consumato un cocktail nei prossimi giorni gli ospiti d'oltre alpre avranno anche modo di conoscere diversi angoli della sicilia da marina di ragusa a siracusa poi sarà la volta anche di note ibla mentre la prossima primavera saranno i cittadini chiaramontani ad essere ospitati dalle famiglie francesi per marina di ragusa sarebbe l'ora di costruire un nuovo impianto sportivo e la proposta è il consigliere di territorio angelo laporta il quale spiega come la struttura attuale non potrà garantire lo svolgimento delle partite il consigliere comunale angelo laporta torna a sollecitare l'aggiunta municipale affinché siano accelerati i lavori di ristrutturazione del campo sportivo di contrada gaddimelia a marina di ragusa così da fare in modo che l'impianto sia a norma secondo il regolamento federale da questa stagione infatti dice la porta il marina di ragusa gioca nel torneo di promozione finora si è visto costretto ad emigrare allo stadio Aldo Campo di contrada selvaggio con tutte le difficoltà che ciò comporta ieri sera durante le comunicazioni in consiglio comunale ho sollecitato l'assessore a ramo Massimo Iannucci e il sindaco Federico Piccitto a sanare tutte le anomalie esistenti sappiamo dice che gli uffici comunali dell'edilizia sportiva si stanno dando da fare purtroppo però la problematica riguardante la tribuna sembra più complicata e comunque sarà molto complesso ottenere l'agibilità nonostante tutto la federazione consentirebbe non appena saranno risolte le anomalie più evidenti lo svolgimento delle gare casalinghe a porte chiuse per l'intera stagione il problema è ammesso che tutto vada a buon fine che cosa succederà il prossimo anno sportivo si chiede la porta ritengo che non sia giusto privare i tifosi della possibilità di sostenere la propria squadra e per questo motivo è opportuno che possa essere individuata una soluzione definitiva e duratura ecco perché dice chiedo che si comincia a pensare alla progettazione di una nuova struttura un nuovo stadio che consente il ritorno a casa del marina e dei propri sostenitori adesso il repilo con dei fatti in primo piano 11 giorni di agonia e poi la morte non ce l'ha fatta Dario Cognate il 26enne di Vittoria rimasto coinvolto lunedì 7 settembre nel gravissimo incidente stradale sulla Vittoria Scoglitti le sue condizioni erano apparse subito disperate per cui si era reso necessario il trasferimento all'ospedale Garibaldi di Catania al terzo inservento subita la gamba tranciata quasi nell'urto il decesso del giovane intorno alla mezzanotte denunciate dai carabinieri di Ragusa due persone per lavori abusivi in zona sottoposta a vincolo archeologico i due soggetti stavano effettuando dei lavori di sbancamento non autorizzati nell'aria i militari sono stati allertati da un passante che incontrato a passo marinaro aveva notato un escavatore intento ad effettuare lavori di sbancamento i carabinieri hanno quindi accertati i lavori abusivi denunciando i due un ragusani e un comisano fratelli d'Italia di Vittoria presentano un'interrogazione in consiglio per chiedere chiarimenti sulle condizioni del litorale di Scoglitti dopo lo sversamento in estate del liquame alla riviera Lanterna per Giovanni Moscati e Andrea Nicosia lo sversamento è stato causato da una mancata manutenzione ordinare dell'impianto sarebbe invece bastato affermano i due consiglieri di opposizione prevedere la costante pulizia delle vasche il caso degli assistenti sociali scolastici a Vittoria rischia di diventare una querella infinita e oggi è il consigliere Daniele Barrano a controreplicare all'assessore alla pubblica istruzione Gaetano Bonetta per Barrano occorre che l'amministrazione comunale colta da un barlume di ragionevolezza convochi subito un incontro con tutti i soggetti interessati trovando gli spunti per gestire al meglio una materia molto delicata L'onorevole Nino Minardo presenta una proposta di legge sull'alternanza scuola-lavoro per iniziare l'apprendistato dai 14 anni obiettivo combattere la dispersione scolastica e cercare di rilanciare l'occupazione l'apprendistato per il parlamentare di Forza Italia è utile per offrirle al studente un alternativo di formazione con esperienze in ambiti lavorativi invece in Sicilia le fughe dei ragazzi dai banchi di scuola presentano oggi numeri dal record La giornale termina qui grazie per l'attenzione e appuntamento alle prossime edizioni muchersi Grazie a tutti.